Cagliari Lazzaretto, la mostra annuale dell'Accademia d'Arte Santa Caterina. L'Accademia nasce nel 2012. Ogni anno propone laboratori intensivi e corsi annuali che abbracciano vari campi come la pittura, la scrittura, la fotografia, la grafica, il fumetto e l'architettura. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Domanda difficilissima. Sono in realtà due cose indispensabili entrambe, secondo me nel senso che il talento magari è quel valore aggiunto che poi sostenuto dalla tecnica permette di realizzare degli ottimi lavori e di avere poi magari una carriera artistica. C'è anche da dire che il talento senza tecnica può rischiare di essere inutile forse. Tu da autodidatta hai imparato quella che è la tecnica dell'acquarello, quale consiglio ti senti di dare ai tuoi allievi? Sicuramente moltissima pratica. Alla fine mi sono reso conto che quello fa la differenza negli anni, anche per una persona che parte completamente da zero. Ai corsi spesso capita qualcuno che non ha mai preso in mano una matita, però con molto impegno riesce tranquillamente a fare degli ottimi progressi. Quindi sicuramente l'impegno e la dedizione sono la cosa principale. L'Accademia nasce da un'idea di professionisti per forgiare dei professionisti. Questo è ciò che la differenzia rispetto ad altre scuole d'arte o a chi organizza corsi di arte e via dicendo. Sì, esattamente. È nata proprio con l'idea di offrire come di tutto una formazione tecnica e poi soprattutto di offrire anche una formazione professionale, cioè permettere a chi impara la tecnica di percepire la propria capacità come una possibile professione. E soprattutto poi capire come gestirla, quindi come proporsi al mercato, come organizzare una mostra, come gestire i rapporti con un cliente e così via. Siete nati nel 2012, i numeri sono migliorati considerevolmente, avete molti più iscritti rispetto a prima. Precisamente, sì. Mi ha avuto una crescita esponenziale sia in termini di iscritti come studenti, sia in termini anche di collaborazioni con docenti che si sono proposti e hanno iniziato a collaborare con noi e sicuramente è nato tutto da due persone, però la collaborazione con così tanti docenti ha permesso di proporre così tanti lavori e tanti corsi. Frequentare l'Accademia non significa semplicemente frequentare delle lezioni, ma comunque aprirsi anche al mondo del lavoro. In teoria sì, questo è il nostro obiettivo. Poi chiaramente ci sono tanti altri fattori che bisogna valutare, però diciamo che il nostro obiettivo è quello di dare tutti gli strumenti che poi possano permettere a chi vuole veramente impegnarsi in una professione di provare a intraprenderla come strada, come lavoro. Visto che prima abbiamo parlato di talento e di tecnica, ti chiedo, ma il cosiddetto genio dell'artista che va fuori da quella che è la tecnica tradizionale, tu hai avuto modo di conoscerlo? Non personalmente, non penso mi abbia toccato direttamente, però ci sono quei rarissimi casi in cui il genio spesso o ha la tecnica innata, cosa rarissima, o proprio nasce già per fare quello e basta. Abbiamo avuto tanti geni nella storia dell'arte, però poi diciamo che lo decidono sempre i posteri, quindi mi astengo. Oggi tra l'altro ci sarà anche la premiazione dei finalisti della Galleria SD. Esattamente, è un concorso che abbiamo attivato l'anno scorso, un concorso solo di acquerello a cui hanno partecipato più di 100 persone da tutto il mondo, abbiamo unito l'evento dell'Accademia a quello della mostra dei finalisti del concorso e oggi alle nove e mezza faremo la premiazione e i primi tre vincitori avranno un contratto di esclusiva con la Galleria e cominciano a lavorare con la Galleria che sta qua a Cagliari. Forionda ci raccontavi che partiranno presto dei corsi. Sì, esatto. Con l'Accademia si potrebbe quasi fare un legame tra la Galleria e l'Accademia, nel senso che la Galleria è nata anche per creare poi una possibilità per gli studenti. Proprio da gennaio cominceremo con dei corsi di formazione triennale aperti a ragazzi dai 18 anni in su con l'obiettivo proprio di dare una formazione professionale completa, quindi lavorare anche con materie quali marketing dell'arte, allestimento e così via. Sarà un corso di tre anni con l'obiettivo poi l'ultimo anno di produrre una mostra personale da proporre a una galleria o ad altre realtà commerciali. Tra l'altro con la formazione in bottega. Esatto. Tutta la scuola ha come linea quella della formazione a bottega. Quindi l'idea che chi fa il corso è un professionista, è che è lo spazio in cui si insegna, poi è anche lo spazio in cui lavora il docente. Quindi gli studenti possono vedere il lavoro del loro maestro mentre cresce e mentre progredisce. Ed è sicuramente uno stimolo in più. Prima ci raccontavi che tre dei tuoi allievi inizieranno a far parte della tua galleria. Esatto. Due hanno già iniziato a esporre dall'anno scorso, sono mostre anche che sono andate abbastanza bene. Una inizierà dall'anno prossimo. E oltretutto una mi sostituirà per alcune lezioni di acquerello quando attiveremo un altro corso. Quindi appunto diciamo che il percorso naturale dopo quattro anni di lavoro, quando abbiamo aperto l'obiettivo era questo, quindi dare la possibilità agli studenti o di lavorare in una galleria o di magari impegnarsi anche nell'insegnamento in accademia. Quindi tu sei? Ceri Geremia. Sei uno dei finalisti. Presentaci la tua opera. La mia opera è questa. È un acquerello e ritrae la mia terra, la pianura padana. In quel periodo parte adesso, sì, dall'autunno fino a metà marzo. Siamo sommersi dalla nebbia, che a me piace, che mi manca quando non c'è. Però può sembrare tetra e fastidiosa, ma a me piace, la dipingo volentieri e niente. Questo è un campo dove c'era un pascolo. Ho fatto diverse foto e questa è una della serie, perché non fate quattro o cinque. Sono felice di essere qua in un ambiente bellissimo. Davide ha creato veramente qualcosa di fantastico. Che posso dire d'altro? Come si arriva a competere per la finale? Che domanda. Non lo so. Con tanto impegno. Lo sappiamo solo noi tutti artisti quanti fogli buttiamo e quante sconfitte si è pronti a raccogliere. Quando il tuo lavoro piace agli altri è lì la vittoria. Già per me essere qua è un onore, perché mi trovo con nomi internazionali e per me ho già vinto. Per il resto va tutto bene, perché abbiamo l'opportunità stasera di conoscere gente che fisicamente non conoscevamo. Tramite i social ci parli e quando li vedi dici, ah, è così. È bello. Non c'è vittoria, non c'è, come si può dire, podio. Siamo tutti felici e ognuno ha il suo stile e questa è la vittoria dell'arte. Abbiamo scovato un altro finalista. Tu sei? Andrea Longhi. Presentaci anche tu la tua opera. Allora, beh. Avviciniamo. Allora, visto che il tema era il paesaggio urbano e il paesaggio naturale, ho detto, guarda caso, io ogni tanto capito a Firenze ed è molto bella da vedere da piazzale Michelangelo, perché ci sono le colline intorno e c'è, chiaramente si vede tutta la città, tra l'altro con Ponte Vecchio, Palazzo della Signoria e il Duomo. Quindi abbiamo proprio i tre elementi principali, diciamo, davvero turistone. In quel caso poi, allora, a me piace, io faccio i disegni dal vero. Questo qua è tratto da un disegno, poi dopo chiaramente per i colori l'ho fatto in studio. Però quel giorno, tra l'altro, c'era bellissimo perché sono andato su che pioveva di rotto, ma una volta arrivato in cima si è aperto il cielo, ho avuto questo corona di nuvole proprio. E quindi ho detto, no, questa qua, insomma, la fotografo e dopo uso questo cielo perché si presta bene a rendere giustizia, insomma, a una città così bella, ecco. Quanto lavoro c'è dietro a questa finale? Allora, diciamo che in termini di tempo sono stati due giorni di lavoro. Anche perché io, lo ammetto pubblicamente, mi sono accorto della scadenza, il giovedì notte praticamente, e sabato bisognava consegnare. Quindi da venerdì, ho fatto tutto venerdì, sabato ho consegnato. E in realtà quanto c'è dietro? C'è dietro tutto quello che c'è prima. E quindi io sono anni che disegno dal vero, che viaggio, soprattutto quando viaggio e disegno perché è il mio modo per vivere il luogo. Invece di scattare una foto è un po' più lungo, i tempi di esposizione sono diversi, ma diciamo che dopo la resa mi appaga molto, ecco. Il bello dell'arte è che una determinata emozione ti porta a creare una determinata opera, ma poi non è detto che i tuoi osservatori e il tuo pubblico provino le tue stesse emozioni. È bello anche che magari si possano provare delle emozioni differenti dalle tue. Sì, allora, dopo chiaramente appunto a voi restituisco un'altra cosa, queste sono robe intime mie che non è un libro scritto, quindi uno non le può sapere. Quello che mi viene detto e di cui vado molto fiero è che di solito quando disegno un posto lo rendo allegro. Io tendo a rendere un po' buffe le cose, non so se è buffo, diciamo che tendo ad essere giocoso con i soggetti che vado a riprodurre. Mi presentiamo un'altra finalista, lei è? Judith Offord. Benissimo, vogliamo presentare anche quest'opera. Anche quest'opera. Quest'opera mi rappresenta nel senso che preferisco dipingere le atmosfere e l'emozione, più che proprio il paesaggio. Devo ringraziare un amico fotografo che fa queste fotografie belle, che mi ha ispirato e incredibilmente sono riuscita a arrivare in finale, non me l'aspettavo proprio. Quali sono le emozioni che trappelano da questa tela? L'immensità, si chiama l'immensità, l'immensità della natura, dell'atmosfera, dell'emozione, della pianeta anche. E sono sempre queste cose che mi ispirano. L'immensità comunque, come potremmo dire, è enorme, no? Ma allo stesso tempo è anche per certi versi così piccola e la si può racchiudere in un rettangolo. Sì, però vai dentro, vai oltre. Bello che oggi vi siate ritrovati qui, tu con altri artisti che di fatto magari non vi siete, vi conoscete anche per la prima volta oggi stesso. Sì, virtualmente ci conosciamo con i contatti che c'è un mondo di acquerellisti molto attivo con il Facebook. E il Facebook ha fatto crescere l'acquerello, nel senso che c'è stato uno scambio di tutti gli artisti del mondo che è un'ispirazione per anche noi nel nostro piccolo. È stato bello conoscere nella carne vive le colleghe simpaticissime. Realmente possiamo dare un viso alle opere, cioè in questo caso possiamo dare un viso all'immensità. Certo, certo, certo. Una delle allieve del corso di scrittura creativa. Eccola qui. Cognito. Ciao. Come sta andando quest'anno accadente? Io sono quasi emozionata come se fosse la presentazione e questo dovrebbe essere una cosa buona. Stiamo spiegando alle persone che si fermano il meccanismo di questa esposizione, che è originale, e stiamo chiedendo alla gente di venire ad assistere alla presentazione che ci sarà domenica prossima, alle 5 e mezza, domenica 9 ottobre, alle 5 e mezza all'Azzaretto, per farci pubblicità. La tua opera? La mia opera sono tre racconti che fanno parte di questa antologia. Sono molto affezionata a tutti e tre, sono tre generi diversi. E' un preferito? Un preferito, sì. Ce n'è uno dove, quello da cui ho messo l'estratto, è la presunzione del diavolo. Non è preferito, ma ci sono particolarmente affezionata perché ci sono molte reminiscenze familiari, e quindi storie di mia nonna, insomma, ricordi, diciamo così, e quindi è bello vederli saltare fuori da me e andare su un libro che poi verrà letto da tanti. Qual è la presunzione del diavolo? La presunzione del diavolo è pensare di prevalere, e qui si parla di diavolo serio, di prevalere anche nei confronti di chi crede in lui, perché se tu credi nel bene, implicitamente credi nel male, e a quel punto lo rispetti. Il diavolo non rispetta chi non crede in lui. Questa è la filosofia che emerge, banalizzata naturalmente, però, insomma, il meccanismo del racconto gira intorno a quel concetto. Raccontatemi qual è la vostra opera a cui siete più affezionati. Iniziamo da te, tu sei? Camilla. Camilla, raccontaci. Allora, ok. Abbiamo provato più volte a farti parlare, ma è proprio un'ossessione che passino le persone qui davanti alla telecamera. Dici tu esattamente, effettivamente. Il mio racconto di cui parlavo poco fa è ossessione. Leggerò appunto il brano tratto da questo racconto e sono molto affezionata, perché comunque... Affezionata o ossessionata? No, affezionata. Perché anche il nome che ho utilizzato per uno dei personaggi, diciamo, di una persona a me molto cara, e poi anche il tema di cui parla è un po' forte, diciamo, però non voglio svelare altro, quindi va bene. A livello umano cosa insegna a scrivere? Allora, a livello umano insegna, almeno a me personalmente, ha insegnato a osservare, diciamo così, il mondo con occhi più attenti. Osservare le persone, come si muovono, come si vestono, e con questo che cosa, come sono, come a livello di personalità, quindi che cosa possono dare all'interno di una storia. Osservare i luoghi, a fare in modo che questi rimangano impressi. E quindi, attraverso tutte queste informazioni, a ricostruire nella propria testa un modo di leggere la vita e il mondo molto più profondo del normale, diciamo, di quello che si fa in maniera quotidiana. Poter capire le persone in un certo qual modo ti dà una mano per essere un pochino più clemente, con quelli che consideriamo i difetti degli altri, ma potremmo anche chiamarli caratteristiche. Sì, è vero, perché alla fine conoscere i difetti delle persone ti fa chiedere perché quella persona ha quel difetto, ti fa fare questa domanda e quindi potrebbe anche voler dire che quella persona può avere un passato che gli ha causato quei difetti e di conseguenza, come hai detto tu, essere anche un minimo più clemente con questi difetti. Di contro, però capire le persone ti fa anche, come dire, ti fa mettere, questa è una cosa personale, a me fa mettere nella posizione di essere capita. Quindi io capisco gli altri, ma voglio anche essere capita. Stefano Bino, lui fa parte del direttivo dell'Accademia d'Arte Santa Caterina, è anche docente. Di cosa sei docente? Fumetto e poi di grafica digitale e web design. Bene, sei preparato. Non è un caso che ci siamo messi qui dietro quest'opera, perché? Perché quest'opera è il risultato, è il progetto finale degli allievi del corso di fumetto e non è soltanto un progetto fine a se stesso, nel senso che non è un progetto nato all'inizio dell'anno e poi finito, che finisce con la mostra, ma è un progetto di un committente, quindi vuol dire che è arrivato un lavoro all'interno del corso di fumetto, quindi del corso di studio di fumetto, dove un musicista ci ha chiesto la copertina per il suo prossimo disco, è un rapper, e ci ha chiesto una copertina in stile Marvel. Allora, i ragazzi del corso di fumetto hanno lavorato, ognuno ha un personaggio del fumetto, compreso qui nella mia supervisione, e l'hanno inchiostrata e siamo arrivati a questo bellissimo risultato e sono molto soddisfatto. Noi ci ridiamo e scherziamo perché lui è simpatico, quindi ci doveva essere una presentazione particolare. Visto che abbiamo parlato di lavoro, io ne approfitto per chiederti, un hobby può diventare comunque una professione? Un hobby diventa una professione se è il tuo sogno e lo vuoi realizzare, d'accordo? Io faccio il fumettista di professione, chiaramente per il mercato del fumetto italiano fare soltanto il fumettista è molto difficile e oggi giorno è quasi impossibile, quindi faccio anche il grafico, faccio il web design, faccio anche altre cose, però comunque sì è possibile, soprattutto è possibile creare dei prodotti di qualità, perché è quello che cerco di fare io, è anche rieducare le persone al fatto che il fumetto non sia una cosa per bambini e basta, ma è un prodotto grafico ed è un prodotto di comunicazione visiva che serve e che aiuta anche in tanti campi come la pubblicità. Questo è quello che di fatto voi insegnate ai vostri allievi? Sì, noi insegniamo, ci piace dire che noi insegniamo l'anticarte della bottega, cioè quando l'apprendista arrivava nella bottega dell'artigiano, del pittore, dell'artista, si sedeva a fianco a lui e imparava e il pittore o l'artista, l'artigiano gli insegnava e trasmetteva tutta, tutta la sua conoscenza senza alcun filtro, senza censura. Questo è quello che facciamo noi, siamo tutti professionisti del settore, siamo 21 insegnanti di cui sono 15 fissi qui a Cagliari e gli altri invece stanno in giro per l'Italia e ognuno insegna il proprio mestiere, è la propria conoscenza senza alcun filtro e poi soprattutto senza omettere i famosi segreti che poi sono segreti pulcinelle e non esistono. L'Accademia d'Arte è nata nel 2012, è passato un bel po' di tempo, adesso siamo arrivati all'Azzaretto. È nata questa partnership con l'Azzaretto? Una partnership molto importante, infatti voglio ringraziare sia Morgan Cera che il presidente della cooperativa che gestisce l'Azzaretto e Chiara Corona che è il braccio destro di Morgan ci hanno accolto a braccia aperte, a piene mani, ci hanno dato un sostegno incredibile e questo è molto importante perché comunque loro credono nel nostro progetto. Il nostro progetto non è quello di fare una scuola d'arte dove le persone hanno un passatempo e coltivano soltanto una passione, ma noi facciamo un'accademia. A Cagliari non esiste ancora un'accademia di belle arti, forse potremmo essere noi la prima accademia di belle arti di Cagliari. Si differenzia proprio in questo la vostra accademia, avete dei professionisti che lavorano al proprio interno e volete formare dei professionisti? Formiamo dei professionisti, Giorgio Binella per esempio è il docente di scrittura creativa e gestisce i corsi di scrittura, produce, anzi crea scrittori che partecipano ai concorsi, li vincono, vincono premi in denaro, vengono pubblicati e si prendono i soldi delle loro pubblicazioni, meglio di così i ragazzi del fumetto porteranno, adesso prenderanno del denaro chiaramente per questo progetto, però spero poi in futuro se vorranno continuare prenderanno il denaro. Chi per esempio fa il corso con Davide Sidi di acquerello, di prospettiva ed è molto bravo, viene proposto e gestito dalle nostre gallerie d'arte, la galleria SD di Davide Sidi gestisce e vende, trova i committenti e vende i lavori, quindi diventa un lavoro, cioè non si viene qui perché si hanno due ore libere e basta. Sappiamo che alcuni dei tuoi ragazzi ti hanno fatto una piccola sorpresa. Sì perché spero di essere un bavo insegnante, così mi dicono, lo spero insomma nella realtà non sia una bugia, giusto per fare un po' di manfrine, però sono molto severo, nel senso che se una cosa non mi piace te la dico. Mi hanno fatto molto ridere perché quest'anno mia lieva mi ha fatto un fumetto su di me, dove lei mi propone un suo lavoro e io gli dico, è sbagliato il piede, è sbagliato quello, è sbagliato quell'altro, lei prende il foglio e lo butta, perché in realtà succede questo nelle mie lezioni, dove tu mi proponi con entusiasmo un lavoro che hai fatto, io capisco il tuo entusiasmo, ma se è sbagliato è sbagliato, io che cosa faccio? Te lo dico così impari, nel senso che lì stai imparando, mi siedo a fianco a te e lo facciamo assieme, questo è imparare a bottega, se stai sbagliando io te lo dico, infatti diciamo che sono il loro sogno notturno, anzi il loro incubo notturno, non il loro sogno. Ma può capitare che un'opera sia degna di nota anche se non si seguono determinati canoni tecnici e si sceglie di travisarli volutamente, quindi significa che con quelli si conoscono, ma si decide di lasciarli da parte. Io non insegno il mio stile, ok? Credo di avere uno stile personale perché così mi hanno detto i critici della Marvel, che non mi vogliono perché ho uno stile personale, peccato, perché avrei fatto più soldi rispetto a quelli che normalmente faccio, però io insegno la tecnica del fumetto, la comunicazione secondo il linguaggio del fumetto, perché è un linguaggio, ognuno poi tirerà fuori il proprio di stile e le proprie attitudini, quindi io non obbligo nessuno a un determinato tipo di stile, c'è libertà assoluta. Grazie per la visione!